oggi con magic cooker smart dynamic friggiamo fichi in pastella con speck iniziamo riscaldando l'olio con magic cooker e nel frattempo prepariamo i fichi che avremo tagliato a spicchi ed avvolto con una fettina di speck poi fermiamo il tutto con uno stecchino prepariamo una pastella bella densa questa è la consistenza che deve avere e tuffiamo i bocconcini di speck e fichi dentro la pastella avvolgendoli per bene prima di rimuovere magic cooker spegniamo la fiamma ed immergiamo i nostri bocconcini vedete l'olio è caldo ma non bollente ora copriamo con magic cooker e friggiamo a fiamma viva per tre minuti ottenuta una doratura omogenea spegniamo il fuoco e attendiamo qualche istante prima di rimuovere magic cooker in posizione orizzontale non ci resta che prelevarli e adagiarli su carta per fritti ora eliminiamo tutti gli stecchini prima di impiattarli e guardate che pastella asciutta e croccante e poi possiamo servirli così su un tagliere accompagnati con speck e fichi grazie a tutti grazie a tutti